Ciao! Vi do l'appuntamento domani, martedì, alle 9.30, per un'altra giornata, un'altra oretta dedicata alla musica, alla storia del rock dagli anni 65 agli anni 75. Domani insieme affronteremo quello che è l'anno 1970, anno in cui i Fawfords o Barry Vittles si sono sciolti, ma anno in cui tanti grandi artisti hanno realizzato delle grandi opere musicali come questa, ovvero Getrotale e la loro Aqualung. Quindi che ci resta da fare? Domani trovarci alle 9.30, ma nel frattempo se avete voglia di raccontarmi qualche aneddoto del 1970 o richiedere magari un brano che per voi ha significato o che vi piace particolarmente del 1970 legato alla musica rock, beh, fatelo e io cercherò di esaurire i vostri desideri. A domani, un abbraccio, ciao!